Elevatissimo è il numero di sagre e feste campestri che, conservando intatto il loro fascino, ancora vivono. Contradistente da canti e balli, si celebrano solitamente nei santuari alla periferia del paese. Sono anche un importante momento di incontro e motivo per degustare le tipiche produzioni locali. Il paniere delle bontà raccoglie la carne modicana degli allevamenti del Montiferro, la vernaccia di Oristano, un vino classico superiore ad altissima gradazione alcolica naturale, i pesci e il saporitissimo maialino arrosto. Nella tradizione gastronomica un posto di rilievo occupano i formaggi di pecora e il rinomato casizolu, formaggio ottenuto dal latte vaccino. Infine i dolci tipici di mandorla, come i gustosissimi amaretti.